ciao ragazzi e benvenuti alla 44esimo pillola di inventor oggi vedremo come alzare ed abbassare il livello e del browser dei vari componenti del nostro assieme vedremo anche come funzionano le cartelle molto rapidamente allora direi di partire da ma potremmo anche fare un asieme molto velocemente così ripassiamo avrei qualche passaggio cominciamo con una parte ok ma invece di partire da una parte ma si va bene partiamo da una parte tanto non è così importante creiamo un pezzo così un po a casaccio senza grosse pretese creiamo un altro pezzo mettiamo nella cartella livelli parte 1 creiamo un altro pezzo ok salviamo la parte 2 è giusto per completare facciamo un terzo pezzo senza nessun impegno ok e salviamo andiamo quindi a fare l'assieme creiamolo e semplicemente usando il ctrl c ctrl v appiccichiamoli all'interno del nostro assieme parte 2 ctrl c ctrl v parte 3 ctrl c ctrl v ecco cosa importante solo il primo pezzo che abbiamo creato è vincolato detto in inglese grounded ma è vincolato sostanzialmente a non poter muoversi gli altri pezzi inseriti invece sono liberi di muoversi questa è una cosa per ripassare allora salviamo l'assieme senza star tanto a pensare i nomi allora capita spesso di mettere dentro tanti assieme nel nostro pezzo ora siamo a 3 ma immaginatevi se avete 20 30 pezzi e dopo ragionare facendo dei pezzi assemblati anche dopo aver averli messi assieme nel suo diciamo assieme principale per esempio vogliamo fare di questi due un assieme inventor ci aiuta notevolmente perché andando su componenti ci permette ci permette di fare a abbassa di livello o alza di livello a seconda del livello dove siamo ovviamente avendo preso due pezzi ci dice di abbassare il livello ci possiamo dare il nome di default prende la cartella dove sta l'assieme salviamo e magia che poi magia non è ok vedete che ho creato un nuovo assieme è abbastanza interessante questa cosa perché immagino che possiate immaginare quanto può essere comoda questa cosa per per fare dei sotto assiemi senza dovere prendere di nuovi vincoli perché vengono ereditati lo vogliamo vedere che vengono ereditati ok cancelliamo l'assieme scusatevi non posso sì col controllo z sono riuscita a tornare indietro va bene ok risolviamo per esempio vincoliamo questa superficie a questa superficie non me l'ha creato ma scusate un sì ok me l'ha girato e non me ne sono accorto ora riproviamo a prenderli e abbassarli di nuovo di livello mi da adesso l'assieme 4 perché va in progressivo yes andiamo ad aprire adesso il nostro assieme e come vedete il vincolo è rimasto cioè l'ha trascinato nel sottosieme che ho creato ma altra cosa interessante è che io posso anche tornare a livelli precedenti scusatemi ok eccomi qua avevo dimenticato un passaggio non chiaramente se selezionate l'assieme vi da solo vi permette di fare un altro assieme diciamo così per estrarre le parti invece devo andare nelle parti e fare promuovi assieme cioè alzi di livello mi sembra sia alzi di livello in italiano faccio così automaticamente come vedete me l'ha trascinati guardate bene che adesso l'assieme rimane vuoto quindi bisognerà eventualmente cancellarlo e dico di non salvarlo vabbè ma è poco quindi rimane l'assieme i vincoli sono rimasti come vedete e con questo giochino potete abbassare alzare di livelli a vostra totale discrezione a vostro totale piacimento è un picc'altro un esercizio che potete fare su piccoli assieme per capire la logica ma come vedete è abbastanza banale termino un attimo con quello che sono le cartelle perché per comodità inventor vi permette di creare anche delle cartelle allora qua io adesso ho selezionato le due parti ma potrei anche selezionare l'assieme e dire aggiungimi una cartella che chiamiamo per esempio banalmente pippo come vedete adesso ho un browser nel mio browser c'è una cartella cosa ha di comodo la cartella? non ha nessuno scopo lavorativo a livello tecnico anche se la cancello delete folder non è che cancello il pezzo all'interno semplicemente cancello la cartella quello che posso fare è per esempio dire che questi qua sono componenti rossi tanto per averli tutti lì ma la potenza è che io se tolgo la visibilità della cartella vengono tolte le visibilità a tutti gli elementi contenuti nella cartella siano essi parti singoli pt o siano essi assiemi im questa è la funzionalità ripeto è una questione proprio di visualizzazione io posso tranquillamente eliminare la cartella e come vedete non viene recepita assolutamente nessuna modifica meccanica o del browser se non semplicemente tirati fuori dalla mia cartella ovviamente se volete farli tornare visibili devo dirglielo forse sono stato un po' veloce per questa lezione perché la do forse dei passaggi per scontato comunque magari riguardatela se proprio volete magari faccio qualche altro dettaglio non penso sia necessario però mi sembra utile imparare anche questa cosa qua per ora è tutto mi raccomando iscrivetevi premete campanelline se volete iscrivetevi in Patreon vabbè è tutto per oggi ciao 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 ciao